Amici, fate una dichiarazione per la televisione. Minumano. La costituzione è pronta. Perché tutti i dei sono. Pupo, hai qualcosa da dire? È un po' già salita. E' un po' di sal. Gira, gira. Eccolo lì. Il culo di Enrico. Rigorosamente fuori. No, se devi fare un video. Lo sto andendo al urso. Così io! Io non lo sto andendo. Va fi che che... Panoramica Panoramica